Qual è la filosofia delle soluzioni che intende portare sul mercato bancario? Da personal computer o comunque da PC fissi su dispositivi mobile. È per questo motivo che qui presentiamo un'applicazione di CRM operativo per la gestione delle reti di vendita e di tutte le attività bancarie e non solo. Nello stesso momento l'evoluzione di questo sistema produrrà molto probabilmente anche una forte innovazione all'interno delle filiali. La banca del futuro probabilmente avrà una filiale sempre più tecnologica, sempre più innovativa con processi sicuramente diversi da quelli attuali. È per questo motivo che Newsoft intende in questo convegno, ma non solo, presentare tutte le idee e progetti che intende portare sul mercato bancario. Newsoft è un'azienda che da 30 anni è presente nel mercato bancario con soluzioni dedicate all'area finanza. Da 5 anni a questa parte ha intrapreso un'attività molto spinta nella ricerca di soluzioni a valore aggiunto nel campo della business intelligence e delle nuove tecnologie, soprattutto per quanto riguarda CRM e business intelligence, RFID e tecnologie analoghe, cosiddette tecnologie abilitanti. Grazie. 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 Grazie.